Buongiorno, con questo video, carissimi agricoltori, allevatore, pescatori, tutte le categorie e tutte le persone che ci gibbiamo, vi do alcune notizie. Il comune di Resottano si sta organizzando per rafforzare il presidio di Marianopoli e altri comuni del Vallone si stanno preparando. I sindaci sono stati interpellati e quindi si organizzeranno con i loro agricoltori, con i cittadini e i consumatori per scendere nelle piazze. Lunedì a Marianopoli scenderanno tutti i cittadini all'unanima età nel nostro presidio. Il nostro messaggio deve essere forte e deciso. Siamo stati in assemblea regionale a Pergusa, provincia di Enna. Io c'ero. E ci devono essere tutti, uomini, donne. Era una presenza bellissima di giovani, di donne, di lavoratori e di cittadini e consumatori. Questa nostra battaglia mira a due cose fondamentali. Prima di tutto salvaguardare la salute dei nostri cittadini col cibo sano. Le nostre aziende agricole, i nostri allevatori, i nostri pescatori producono un cibo sano e naturale, senza contaminanti. Ci vogliono imporre il cibo fabboccato, perché chi controlla il cibo controlla l'umanità, il mondo. Noi non ci faremo abbattere assolutamente. Ormai è di patrimonio comune, che nelle chatte private delle persone sono sorte dei gruppi, gruppi di gente e di risorse umane intelligenti, colti e decisi a volere un cambiamento di migliorare il nostro Paese. La politica è stata sorda. I governanti sono stati egoisti. E a proposito anche le controparte sottomesse ai poteri forti. Ho visto un video del Presidente nazionale della Col di Rette, la più grossa organizzazione degli agricoltori. Mi fa pena e mi fa pietà. Signor Prandini, la finisca di fare il fighino. La finisca. Ho visto che in una intervista televisiva lei non rappresenta il mondo degli agricoltori e dei cittadini italiani. Lei è un venduto, lei è ben pagato, ufficialmente. Informatevi quanto guadagna ufficialmente un Presidente nazionale della Col di Rette o di altre associazioni di categorie. Ufficialmente. E penso che per parlare così lei è sottomessa dei poteri che le dicono di dire queste menzogne in televisione. Che i cittadini, gli agricoltori italiani non siamo nella stessa condizione dei colleghi tedeschi o di altri Paesi europei. Noi siamo al collasso, dove vive lei, signor Prandini, tutti gli altri rappresentanti nazionali delle nostre categorie. Dove vivete? In quale mondo? In quale mondo vivete? Lo sapete? Io sono l'uomo che si è battuto per il grano siciliano da solo. Dove erano le categorie? Ho trovato uno sbocco commerciale nel mondo del nostro grano, in una regione dove si produce grano, senza contaminanti, con i numeri giusti, zero contaminanti, che si può fare il semolino per i neonati. Ci costa 80 centesimi produrre un chilo di grano, in una regione che superproduce grano per il fabbisogno regionale. E prima che raccogliamo il grano, assistiamo alle navi della disperazione, navi cariche di grano, contaminato. E gli avete fatto la Commissione europea, ha fatto la legge per innalzare le soglie della tossicità, anziché mille, mille e settecentocinquanta parte per miliardo di donne, cioè le micotossine, le muffe, e altri veleni, il glifosato, la radioattività, l'uranio impoverito, il fosforo. Signore, c'è un disegno criminale, cari cittadini. Vogliono far chiudere le nostre aziende rendendole inattive economicamente, appositamente con i mercati falsificati, le borse merce a ribasso, per poi soddisfare gli accordi commerciali con i pannelli solari della Cina, perché si sono presi i soldi per far fare queste cose. E in compenso loro fabbricano il cibo, la bistecca in 3D, cresciuta in laboratorio con l'antibiotico, perché non sappiamo che cosa succede all'organismo umano. La melone ha approvato subito il decreto, il 29 dicembre, che la farina di insetti si può cibare l'uomo con la farina di insetti. Vergogna! La melone, il governo melone, salveni, questi disonesti, che hanno già preventivato di mettere l'IRPEF nelle aziende ricchele. E chi la può pagare l'IRPEF? Chi la deve pagare? Come la paghiamo l'IRPEF? Signori, il carburante non è più agevolato. Abbiamo pagato il carburante 1,52 euro, 1,54 euro il litro per lavorare. L'integrazione al reddito è diventata un'elemosera dopo 50 anni che non copre minimamente parte dei costi dei fattori produttivi di tutti i prodotti agricoli. E' una vergogna, abbiamo chiuso il mosaico, abbiamo capito che siete sottomessi e ben bagati. E nell'Europa, nelle commissioni europee, nei parlamentari...